Decreto rilancio prestigiacomo Forza Italia, promuovere transizione energetica e investimenti green. Garantire livelli occupazionali, promuovere la transizione energetica verso obiettivi di sviluppo sostenibile, sostenere gli investimenti green nel settore della raffinazione. Questo l'obiettivo dell'emendamento proposto al decreto rilancio e che vede come prima firmataria la deputata di Forza Italia Stefania Prestigiacomo. Dopo il lockdown causato dal Covid e il crollo di consumo e produzioni industriali è necessario, spiega la parlamentare di Forza Italia, interventi concreti e rapidi per favorire la ripresa industriale e occupazionale del mezzogiorno, realizzando gli obiettivi dell'aumento dell'occupazione, del miglioramento della qualità degli investimenti e della adattabilità ai cambiamenti economici e sociali. Il settore della raffinazione è tuttora trainante per il comparto energetico e che vede al sud alcuni dei suoi più importanti poli produttivi e oggi gravato da accise tasse che da sole rappresentano oltre l'80% del gettito fiscale dell'intero settore energetico. Dopo un confronto con Confindustria ho proposto di realizzare un patto stato settore della raffinazione, finalizzato a garantire gli investimenti da parte dell'impresa attraverso la destinazione di quota parte delle risorse provenienti dalla gettito delle accise e dalla gettito IVA. Ovviamente, sottolinea Prestigiacomo, dovranno essere risorse non distribuite a pioggia ma mirate su obiettivi specifici e qualificanti quali il sostegno degli investimenti per affrontare la transizione energetica. Confido conclude che il Governo colga l'importanza di un intervento come questo per avviare un percorso condiviso e anche per togliere facili alibi alle aziende che minacciano sempre di smobilitare i propri impianti con gravi conseguenze occupazionali a causa delle condizioni poco favorevoli per gli investimenti nel nostro Paese.